Approvato il bilancio di previsione 2023-2025. Consiglio aperto sulle condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria. Esuberi Vodafone, la regione segue la vicenda. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. Il format è privo di immagini e interviste ai politici, secondo quanto disposto dalla legge numero 28 del 2000, in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali e referendari. Apriamo con il via libera da parte dell'Aula al bilancio di previsione 2023-2025. Approvato con 27 sì e 14 no il bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Per l'esercizio 2023 sono previste entrate e spese di competenza per oltre 20 miliardi di euro e di cassa per oltre 16,6 miliardi. Per i due anni successivi le entrate previste sono di oltre 19 miliardi. Circa 11,8 miliardi sono destinati alla sanità e non sono previsti tagli e aumenti di pressione fiscale. Tra le misure economiche contenute nel documento, l'adesione agli Special Olympic Games, il finanziamento del fondo FSE Plus, fondo sociale, e l'autorizzazione a contrarre nuovi mutui per finanziare l'impiantistica sportiva. Via libera inoltre all'istituzione della giornata regionale della gratitudine alle forze dell'ordine per il contrasto alle mafie che si celebrerà il 16 gennaio. L'Aula ha dato infine voto positivo agli emendamenti proposti dalla Giunta per attività termali e idropiniche e per la copertura delle leggi regionali approvate durante l'esercizio provvisorio. L'assessore al bilancio ha rimarcato che non è stato fatto alcun aumento delle tasse e non sono stati effettuati tagli agli assessorati rispetto allo scorso anno e ci sono anche ritocchi al rialzo. Tutto ciò è stato conseguito pur dovendo, ad esempio, restituire 13 milioni allo Stato per il lavoro agile e 18 milioni riferiti ai bolli auto del 2012. Favorevoli le dichiarazioni di voto di maggioranza, negative quelle di opposizione. Il capogruppo della Lega ha evidenziato le voci più importanti del bilancio, tra queste i 237 milioni, per il cofinanziamento del programma regionale FSE Plus 2021-2027, oltre alla possibile accensione di mutui per la progettazione di nuovi ospedali. Il gruppo Partito Democratico ha definito gli annunci della Giunta assai difficili da realizzare, senza assunzioni nella sanità e fondi per gli ospedali. Manca una grande visione strategica del Piemonte. Per la capogruppo Movimento 5 Stelle l'unica azione positiva sarebbe stata quella di depennare il bollo per le auto ecologiche e non è stato fatto perché la proposta è arrivata fuori tempo massimo. Il consigliere Fratelli d'Italia, che presiede la Commissione bilancio, ha parlato di un documento credibile e coraggioso che non aumenta le tasse e non taglia i servizi, riuscendo anche a realizzare investimenti per lo sviluppo. Sulla stessa linea Forza Italia, che nell'annunciare voto favorevole ha definito il bilancio 2023-2025 serio e che mantiene in corretto equilibrio i conti senza togliere fondi rispetto all'anno scorso. Sono stati approvati anche dieci ordini del giorno collegati al testo, compreso quello presentato dalla Lega, che prevede, in vista del prossimo assestamento, il taglio del bollo per le auto meno inquinanti. Su questa mozione è intervenuto il Presidente della Giunta, sottolineandone la coerenza con le politiche dell'esecutivo, mirate ad alleggerire la pressione fiscale dopo le ristrettezze imposte dalla pandemia. La Regione ci aiuti a risolvere le problematiche delle carceri, a partire dalle precarie condizioni sanitarie e strutturali e delle carenze di organico. Questa la richiesta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria durante il Consiglio regionale aperto sul tema. Prendere piena conoscenza delle criticità negli istituti detentivi piemontesi che non si discostano dal trend nazionale. Questo è lo scopo della seduta aperta del Consiglio regionale del Piemonte, dedicata alle condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria. Nel 2022 in Piemonte, hanno sottolineato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ci sono state 31 aggressioni e 71 agenti sono rimasti feriti. L'Istituto di Torino, Lorusso e Cotugno, viene giudicato il carcere più complesso in Italia e anche il minorile Ferrante Aporti non si sottrae alle problematiche. Il personale è stato rimarcato e sottodimensionato, messo in crisi dal blocco del turnover. Si aggiunge poi lo stress lavorativo che provoca anche suicidi. Sono necessarie adeguate risorse per ripensare le carceri. Credo che questa sia un'occasione assolutamente significativa, proprio perché il fatto di dedicare un intero Consiglio regionale, aperto soprattutto a queste tematiche, fa capire già che c'è un'attenzione specifica in materia e questo ovviamente è già un buon punto di partenza che ci lascia presagire con l'ottimismo un avvio per la soluzione delle varie problematiche che ci sono. Nella seconda parte della seduta sono stati numerosi gli interventi dei gruppi politici. Il capogruppo della Lega ha ribadito la necessità di ricorrere a strumenti come il Taser per sedare detenuti aggressivi e l'opportunità di far scontare le pene ai detenuti stranieri nei loro paesi d'origine. Per il gruppo del Partito Democratico bisogna riorganizzare e investire in progetti educativi per i detenuti, per la formazione continua degli agenti per i quali è necessario l'aumento degli stipendi. Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno per rafforzare il monitoraggio psicologico dei detenuti e per potenziare gli organici degli agenti. Per il Movimento 5 Stelle non si possono azzerare con un ordine del giorno le carenze strutturali delle carceri ma bisogna assumersi l'impegno per monitorare maggiormente il fenomeno. Il Presidente della Quarta Commissione ha infine ricordato che entro maggio termineranno le audizioni del gruppo di lavoro sui problemi della sanità penitenziaria e che prima della pausa estiva sarà presentato un documento programmatico su possibili soluzioni. Quali azioni intende mettere in atto la Giunta regionale per scongiurare il licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici delle sedi Vodafone di Vrea e Torino? Questo l'interrogativo che Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno rivolto alla Giunta nell'ambito dei question time. Vodafone Italia SPA ha avviato lo scorso 12 aprile una procedura di licenziamento collettivo per 1.003 lavoratori sul territorio nazionale. In Piemonte il numero degli esuberi dichiarati è di 118 per la sede di Vrea e 6 per la sede di Torino. L'assessore al lavoro ha comunicato che la procedura è ancora nella fase sindacale che qualora non si trovasse un'intesa la trattativa proseguirà sul tavolo del Ministero del Lavoro. La Regione si è impegnata a seguire da vicino la situazione assicurando che sarà fatto tutto il possibile per arrivare a soluzioni che salvaguardino i livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti. La compagnia Shen Yun Performing Arts è stata ricevuta in Consiglio regionale. Danza e musica raccontano 5.000 anni di civiltà cinese. Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e il Vice Presidente del Comitato diritti umani e civili del Piemonte insieme all'assessore regionale alla cultura hanno incontrato a Palazzo Lascaris gli artisti della compagnia Shen Yun Performing Arts in scena al Teatro Reggio di Torino con uno spettacolo che porta sul palco la spiritualità e i valori della cultura millenaria cinese. La nostra associazione fa sì che lo spettacolo Shen Yun possa arrivare in Italia. È un ritorno molto importante, molto atteso. Sono tanti anni che cercavamo di riportare la compagnia in Italia e siamo molto contenti di esserci riusciti e siamo molto contenti e ringraziamo tutte le autorità, tutta la regione Piemonte per la grande accoglienza. Il regista Asghar Faradi è stato insegnato del premio Stella della Mole 2023. Il regista iraniano Asghar Faradi ha ricevuto il premio Stella della Mole 2023. La cerimonia si è svolta al Museo Nazionale del Cinema con il sostegno del Comitato regionale per i diritti umani e civili. Due volte premio Oscar per il miglior film straniero, Faradi ha tenuto una masterclass nell'aula del Tempio della Mole Antonegliana in cui sono state ripercorse le tappe più importanti della sua carriera. È un grande onore questo premio rispetto a tutti gli altri perché il cinema italiano ha molto influenzato il mio lavoro. La questione dei diritti umani è la base del cinema, soprattutto di questo tipo di cinema che noi facciamo. Anche nel neuralismo, lo sguardo alle persone semplici, alla vita quotidiana, alle loro condizioni è la base del nostro cinema. Al termine dell'incontro è stata proiettata la pellicola Un Eroe del 2021, gran premio speciale della giuria al 74esimo Festival di Cannes. Non solo esporre la storia del cinema, ma attraverso il cinema raccontare le problematiche, le situazioni di criticità, la sensibilità nei confronti di certi valori che il cinema ha sempre rappresentato. Per questa edizione è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti!